Catania si è aperta stamani in municipio, la Camera Ardente allestita per l'ex parlamentare di Alleanza Nazionale Benito Paolone, morto ieri dopo una lunga malattia. Tanta commozione per la storica figura della destra, nata nel 1933 a Campobasso. Dagli anni 50 si trasferì a Catania leggendola come sua città sin da ragazzo. Paolone guidò i movimenti giovanili e universitari del Movimento Sociale Italiano. È stato consigliere comunale del capoluogo etneo dal 1964, deputato regionale dal 71 al 94, anno in cui venne eletto alla Camera. È stato anche uno dei fondatori della squadra di rugby dell'amatori Catania la settimana scorsa, l'ex premier Silvio Berlusconi andò a rendergli visita. Benito Paolone un grande combattente, lo è stato sia nello sport sia nella politica, disse in quell'occasione lo stesso Berlusconi. Tra ieri e oggi pioggia di dichiarazioni in onore al ricordo di Paolone sono arrivati dal mondo sportivo e da quello politico di ogni schieramento, tra i quali Anne Finocchiaro, Gianfranco Fini, Gianni Alemanno, Pierferdinando Casini e Ignazio Larussa. I funerali di Benito Paolone si terranno domani alle 15 in cattedrale a Catania.